Un'immensa area dall'incredibile bellezza che si affaccia sull'Adriatico, sulla costa dei Trabocchi e la Via Verde, osservando il colle di San Vitochietino, ai margini della zona SIC, Grotta delle Farfalle. Una vicenda che si trascina da anni, col progetto di un resort tra ristoranti, camere, parchi, piscine, attività ricettive varie su una superficie di circa 200.000 metri quadrati su 17 ettari di terreno che sembra aver definitiva soluzione, col TAR che ha deciso la fattibilità dell'opera dal punto di vista giuridico. La libera dunque, salvo colpi di scena, l'antropizzazione a fini turistici del colle. La storia è datata nella sua primogenitura. Nel 2012 l'amministrazione Catenaro favori il progetto, definendolo irripetibile per lo sviluppo dell'intera costa dei Trabocchi, con l'approvazione della variante puntuale al piano regolatore per rendere utilizzabile l'area precedentemente a destinazione agricola. Una logica di sviluppo di massa completamente osteggiata dalla successiva amministrazione, quella a Bozzelli, che ha dato vita per anni ad una battaglia nelle sedi competenti per evitare ogni speculazione sul territorio. La via verde prevede, insomma, altro modo di attrarre turisti, altre strutture molto meno impattanti, sostenibili, al passo con i tempi. Questa l'idea dell'amministrazione comunale attuale. Una delibera di giunta non approvò le volumetrie previste nel sito, con una serie di ricorsi e contro ricorsi della San Vito Resort Village, società titolare del progetto, che hanno coinvolto TAR e Consiglio di Stato fino all'ultima decisione. Il resort ha così definito le sue volumetrie, ma il diritto a costruire dipende sempre dall'amministrazione che aspetta di esaminare un nuovo progetto in un investimento di circa 20 milioni di euro. Grazie. Grazie.